I lavori per la manutenzione e l'ammodernamento del porto di Barletta vanno avanti. L'obiettivo è quello di restituire maggiore dignità allo scalo e rafforzare il suo ruolo di riferimento per tutto il basso adriatico. A fare il punto della situazione sugli interventi realizzati e su quelli da realizzare per migliorare le condizioni del porto della città della disfida è il presidente della Commissione regionale Affari Generali, Filippo Caraccio, che ha ripercorso le tappe che hanno portato al via dei lavori. Diverse sono state le segnalazioni degli organi competenti, dalla Capitaniera di Porto, dal Comune. Ho provato a chiedere un sopralluogo a marzo al presidente dell'autorità portuale, sopralluogo che è avvenuto il 29 marzo con tutti i dirigenti dell'autorità portuale e si sono risi conto insieme con gli operatori effettuando un sopralluogo che questo porto meritava maggiore attenzione soprattutto relativa anche alla sicurezza degli operatori che operano in questo porto. Sono partite una serie di attività che stanno rendendo questo porto più dignitoso ma mettere in condizione gli operatori di operare in sicurezza quindi dal rifacimento del manto stradale a alcune operazioni di rafforzamento di alcune banchine. Tra gli interventi più importanti in via di realizzazione ci sono il rifacimento della banchina 3 destinata all'appludo della petroliera e il recupero della rete idrica dell'acquedotto pugliese presente in tutto il porto. La banchina 3 è fondamentale perché prevede l'attacco della petroliera e il non funzionamento della banchina 3 ha provocato numerosi disagi sia di natura lavorativa che economica per gli operatori. Basti pensare che c'è una riduzione di circa il 30% delle attività non potendo la petroliera traccare su quella banchina. Per cui abbiamo rinnovato l'autorità portuale l'invito di intervenire, c'è stato un sopraluogo dei sommozzatori e hanno rinvenuto che è possibile rimettere in sesto la banchina 3 e rimettere in funzionalità tutto quel tratto per ridare al porto e agli operatori la giusta dignità che meritano. Oltre a questo ci sarà un intervento strutturale da parte dell'acquedotto pugliese che sostituirà tutta la condotta condotta che purtroppo a volte salta per il peso delle gru che lavorano all'interno del porto. Questi interventi uniti alla procedura che porterà al dragaggio del fondale e all'attivazione delle ZES aumenteranno le funzionalità dello scalo portuale barlettano. Penso che il porto di Barletta possa rimanere quel porto strategico, soprattutto per gli scambi commerciali atteso che si trovi in una posizione indispensabile e fondamentale per gli scambi maritimi.